Caro dei reati in Valtinia Valchiavenne, quanto emerge dai dati interforzo ovvero relativi all'attività complessiva svolta da tutte le forze dell'ordine operanti in provincia diffusi oggi dalla questura di Sondrio in occasione della festa della Polizia di Stato nel 165esimo anniversario della Fondazione del Corpo. I reati commessi in provincia sono scesi in arco di un anno da 4882 a 4103, sono diminuiti di 779 unità, meno 16% la riduzione in percentuale. I furti sono passati da 1619 a 1256 con una riduzione del 22%. I reati legati agli stupefacenti sono cresciuti da 85 a 111, 82 persone sono state denunciate a piede libero, 35 gli arresti. Complessivamente nel 2016 4103 delitti commessi, assicurata la giustizia 1706 persone con 152 arresti. Nel bilancio dei vari reparti sul territorio facenti capo alla questura di Sondrio figurano i 26 arresti e 198 denunce a piede libero. La Polizia Stradale ha operato 96 ritiri di patenti, di cui 94 per guida è stato di ebrezza, più di 3.000 le contravvenzioni elevate. Significativa l'attività della Polizia Postale nel contrasto alle frodi informatiche, 64 le denunce e ai tentativi di clonazione di carte di credito, con 47 casi scoperti. I soccorsi effettuati sulle piste da sci dalla Polizia di Stato l'anno scorso sono stati 1.634 con 145 sanzioni elevate. Il questore Gerardo Acquaviva nel suo discorso ufficiale ha ricordato l'attività di prevenzione svolta con i fogli di via, 97 quelli emessi nel 2016, e con gli accompagnamenti alla frontiera di soggetti socialmente pericolosi decisi in accordo con il prefetto Scalia. Tra le operazioni di particolare rilievo, l'arresto di un 43enne milanese eseguito il 1 febbraio del 2016 a Tirano, l'uomo era stato trovato in possesso di quasi 5 kg di cocaina. La Polizia di Stato ha gestito anche dedicati casi di maltrattamenti in famiglia, nuovi procedimenti per stalking nei confronti del coniuge, conviventi o ex fidanzati, che si sono conclusi con la misura del divieto di avvicinamento. Quanto al porto d'armi, tema caldo di questi giorni in Italia, la questura di Sondrio nel 2016 ha rilasciato, rinnovato, 728 licenze. I reati, tutte le principali tipologie complessivamente hanno un decremento dell'ordine del 20%, alcune tipologie di reato come i furti in abitazione anche del 40%, nessuna rapina ai danni di istituto di credito, nessuna rapina ai danni di uffici postali, e quindi un sistema di prevenzione generale e di contrasto alla criminalità che funziona. Un unico dato che riguarda la città di Sondrio è un aumento dei furti in esercizi commerciali, ma con numeri molto bassi, da 27 a 43, il cui contrasto va però affidato a sistemi di controllo tecnologico. La vostra azione si rivolge anche al mondo del web? Le scuole sono ormai teatro di intervento da parte di tutte le forze di polizia e sociali, e quindi con l'espandersi di questi nuovi sistemi di comunicazione, naturalmente i reati tendono ad avere una virtualità, e quindi l'attività di contrasto risulta difficile, perché i reati vengono commessi all'estero, e quindi l'unica arma è la informazione, la prevenzione, specialmente nelle scuole. L'andamento della criminalità, insomma, mi pare abbastanza contenuto e contrastato adeguatamente. Picchetto, riposo!